ciao ragazzi benvenuti in un altro video del trappolone oggi torniamo a parlare di calore analogico e in particolare vorrei rispondere a una delle domande più frequenti che ricevo sotto ai commenti nei video che pubblico oppure via mail oppure su instagram e in particolare la domanda è che cosa si intende per calore analogico allora siamo nel 2022 e chiaramente è sempre meno comune vedere dischi che vengono prodotti in megastudi con tutti quei rack con il banco analogico con tutta quella roba e diciamo che ormai la direzione già da qualche anno è quella come dico sempre di lavorare totalmente in the box molto spesso non utilizzando nessun outboard analogico molto spesso nemmeno in ripresa perché comunque ormai vediamo che ci sono un sacco di schede audio anche che hanno la loro dsp interna più i loro pre che permettono di emulare preamp analogici bellissimi in un modo molto figo in particolare parlo delle eventuali apollo dell'universal audio delle eventuali antelope che stanno seguendo anche loro quella strada e qui diciamo diventa sempre più facile emulare un setup analogico e quindi caldo dalla ripresa fino al mix e poi fino al mastering anche i plug in stanno facendo passi da gigante anche qui UAD, Waves, IK Multimedia stanno facendo un lavoro incredibile ovviamente i brand sono infiniti c'è anche Arturia ce ne sono un milione però ecco comunque ogni brand si sta avvicinando sempre di più a emulare quel carattere analogico però mi rendo anche conto che le nuove leve dell'audio insomma chi si sta interfacciando a questo mondo da poco ha pochissimo background per quanto riguarda il comprendere realmente cosa fa dell'apparecchiatura analogica al suono e quindi in questo video volevo approfondire un po' questo discorso. Ora prima di entrare nel vivo della questione se siete nuovi nel canale vi consiglio di dare un'occhiata nei link in descrizione dove troverete un ebook gratuito di 30 pagine in cui vi spiego come creare il vostro mix template e ci sarà parecchia roba analogica parecchio suono analogico che ottengo utilizzando i plug in consigliati in questi ebook e poi una lezione gratuita di 40 minuti in cui elenco i 10 errori fondamentali da evitare per ottenere un buon mix e quindi tutto materiale gratuito che vi permetterà di portare le vostre produzioni a un altro livello. Ora tornando al topic del video che cosa si intende per calore analogico? Partiamo dal fatto che anche se usiamo la più entry level delle schede audio quando noi acquisiamo quindi se facciamo recording stiamo passando per un componente analogico perché comunque la scheda audio anche quella più entry level ha il suo preamplificatore analogico che poi va sul convertitore quindi c'è un primo stadio di preamplificazione che quello è per forza un pre analogico poi chiaramente potrà essere meno colorato più colorato ma comunque già lì stiamo facendo un primo passaggio in analogico chiaramente questa cosa è molto stremenzita rispetto a come erano le cose magari negli anni 60 70 in cui si passava per un preamplificatore di un banco comunque esterno che poi entrava su un dispositivo di acquisizione in questo caso magnetico ovvero il classico nastro e poi chiaramente il nastro usciva sul banco e poi quello che veniva mixato sul banco quindi l'uscita stereo del banco il cosiddetto rientro macchina tornava su un altro tape recorder di due piste che apparentemente era il nostro master tape quindi tutti questi passaggi generavano appunto il calore analogico che noi ancora oggi cerchiamo con una certa ossessione per quale motivo perché chiaramente avevamo il primo preamplificatore analogico poi avevamo il passaggio sul nastro quindi un altro passaggio analogico il passaggio sul banco e poi l'esportazione della traccia stereo su un altro master tape che appunto era il nastro due piste stereo che era poi la bobina che veniva mandata al mastering engineer che faceva il mastering finale probabilmente su un altro nastro per poi andare chiaramente su vinile su cassetta e poi qualche anno dopo anche su cd insomma tutti questi passaggi chiaramente erano tutti piccoli passetti graduali che davano calore analogico al nostro suono però ora se volessimo analizzare cosa succede realmente in questi step dobbiamo chiaramente utilizzare un po di logica e chiaramente un po di orecchio e magari vedere anche un po di diagrammi perché poi se si cercano i vari grafici di quello che fa ogni macchina si capisce bene perché quel passaggio in quella macchina viene percepito come caldo ora facciamo qualche passo avanti quando invece noi lavoriamo in un environment moderno chiaramente si stiamo passando per un pre se quello di una scheda audio stock entry level chiaramente un pre che colora pochissimo soprattutto se viene tirato poco ma questa cosa in realtà è una cosa buona perché abbiamo un processore super rispettoso di quello che gli stiamo mandando dentro comunque una risposta su tutto lo spettro abbastanza lineare e con poco rumore di fondo che poi viene mandata nel convertitore quindi noi sulla nostra doce troviamo questa traccia super flat poco contaminata poco colorata e quindi in realtà qualitativamente molto buona però chiaramente vogliamo quel calore che ce la rende molto più musicale e quindi a un certo punto sia in post produzione e mix cominciamo a caricare appunto emulazioni analogiche che possono essere tape simulator emulatori di banco tipo l'NLS channel o tipo nel caso del nastro il j37 o lo studer dell'uad o l'ampex atr 102 insomma quello che abbiamo no che cosa fanno queste cose se poi andiamo a analizzare perché qui chiaramente il punto del video allora di sicuro la cosa più palese quando processiamo il nostro suono con un'apparecchiatura analogica o comunque con un'emulazione di qualcosa di analogico è la distorsione armonica la distorsione armonica non fa nient'altro che generare armonici su registri più alti per esempio abbiamo una sinusoide o comunque una cassa molto incentrata sui 100 hertz vedremo che più andremo a tirare il nostro processore analogico quando dico processore analogico intendo anche un'emulazione ovviamente e chiaramente cosa succede vedremo che oltre a quel segnale se guardiamo sullo spettro oltre a quel segnale magari sui 100 hertz sugli 80 hertz vedremo che si cominciano a generare tanti picchetti su frequenze più alte quindi quelli sono appunto gli armonici che renderanno il nostro segnale più colorato e chiaramente il vantaggio non è solo una musicalità maggiore perché chiaramente abbiamo un segnale più ricco lungo tutto lo spettro ma è chiaramente anche il fatto che andando ad ascoltare quel suono su un dispositivo più penalizzato meno performante che magari ha meno risposta sulla low end e sulla i end quindi con più mid range ci troveremo chiaramente quel segnale con molte più informazioni magari senza distorsione armonica quel segnale non lo sentiremo proprio su un dispositivo piccolo che può essere un telefono che può essere una radiolina oppure comunque un impianto non così performante e nel momento in cui abbiamo la distorsione armonica quelle informazioni su registro più alto dello spettro magari 200 hertz 300 hertz 500 hertz quanto volete chiaramente quelle informazioni potranno essere apprezzate e quindi quel kick o quel basso sinusoidale che spariva totalmente sui dispositivi piccoli con la distorsione armonica comincia a essere percepito molto bene su un impianto appunto più piccolo quindi questa è la prima cosa seconda cosa e questa è una cosa molto palese soprattutto quando si utilizza un nastro che diciamo non è proprio informissima ma direi sul nastro in generale è la perdita di segnale agli estremi della banda per esempio se andiamo a guardare un grafico per vedere come rispondono vari tipi di nastro quando ci passiamo sopra il suono perché il nastro che cosa fa fondamentalmente si carica magneticamente del segnale che gli viene inviato dalla testina quindi c'è un passaggio magnetico che poi quando viene riletto viene convertito in audio perché comunque campi magnetici corrente e segnale audio sono legati strettamente per un discorso fisico ora questi vari trasferimenti non potranno mai essere performanti come l'entrare in un pre e acquisire con un convertitore e avere il nostro suono sulla do quindi diciamo che quando siamo sul nastro è come se ci fossero un paio di filtri molto poco pendenti quindi molto musicali molto naturali che vanno a alleggerire un po la nostra banda sulle basse estreme sulle alte estreme chiaramente meno è performante il nastro più è lento il nastro meno è spessa la pista più questa perdita di banda di segnale sarà palese quindi a volte un po più hi fi a volte un po più lo fai sulla cassetta sarà ancora più lo fai perché la cassetta è un nastro ancora meno performante ancora più lento e chiaramente tutte queste scelte di supporto che andavamo a fare che incidevano sulla qualità del prodotto che andavamo ad acquisire o trasferire comunque però questa cosa un po come succede per la distorsione armonica rende il nostro prodotto più sgombro e sicuramente più focalizzato sul mid range e questa cosa ripeto anche in questo caso si traduce con una certa musicalità perché comunque andando a focalizzare il nostro suono più sul mid range sì sicuramente si perderà quel senso di hi fi sulle basse estreme sulle alte estreme però allo stesso tempo uno sarà molto più facile mixare quel prodotto perché chiaramente meno è buona la nostra stanza meno sono buoni i nostri monitor più sarà il mid range che ci rimane quindi la parte su cui abbiamo delle informazioni che riusciamo a sentire riusciamo a giudicare per questo e poi sul fatto che appunto sulla maggior parte dei dispositivi piccoli il mid range è quello che si sente sempre avremo una maggiore musicalità avremo una maggiore fedeltà nel mix per quanto riguarda la traduzione oltre a questo quello che fanno molti processori analogici soprattutto quelli a trasformatore ma soprattutto il nastro è anche una compressione a volte meno palese a volte più palese che non è come la compressione che magari possiamo andare a applicare con il plug in stock nella nostra do che comunque suona digitale che sono super matematico che suona super preciso quindi ai suoi vantaggi però non è quella compressione leggera imprevista a volte anche molto randomica quindi casuale e quella compressione però che ci porta il nastro che magari ci porta un componente analogica trasformatore che ha il suo modo di smussare i picchi unita alle altre cose che ho detto diciamo che ci dà quel senso che definiamo glue quel senso di colla che poi appunto rende tutto più omogeneo e quindi ci permette poi di avere un prodotto con tante tracce che funzionano molto meglio assieme rispetto a andarle a trattare digitalmente una alla volta con dei processori super precisi quindi diciamo che effettivamente se andiamo a pesare questo contributo che tutte queste cose analogiche danno sul nostro suono si parla quasi di difetti più che di pregi però l'orecchio umano fondamentalmente sente queste cose queste casualità questo smussamento dei picchi questa perdita di segnale agli estremi questa distorsione armonica perché poi la distorsione in realtà quando si va a misurare la performance di un'apparecchiatura è vista come un male non con un come un bene parlo proprio a livello di parametro tecnico però queste tre cose poi sono quelle cose che col peso giusto col modo giusto di ottenerle sono quelle che danno musicalità faccio anche un altro esempio quando si paragona vinile cd per esempio il vinile per forza di cose ha un range dinamico molto minore rispetto al cd che invece chiaramente un supporto digitale e in cui non c'è contatto tra lettore e sorgente quindi tra laser che legge il cd e cd stesso e chiaramente c'è una qualità maggiore però come avete visto con l'avvento del cd si è sentita l'esigenza per esempio di rendere i master molto più laudo nonostante il range dinamico fosse maggiore rispetto al vinile proprio perché c'era bisogno di portare su roba in sottofondo c'era bisogno di comprimere c'era bisogno di generare armonici a volte anche troppo per i miei gusti però vediamo come poi alla fine nonostante il supporto vinile è un supporto qualitativamente sulla carta inferiore vediamo come il nostro orecchio tende a preferire il vinile rispetto al cd quindi questo è uno dei tanti esempi la mia conclusione è questa una volta capite tutte queste cose bisogna conoscere molto bene le apparecchiature analogiche che si vanno a utilizzare o comunque emulare perché diciamo che secondo me ogni apparecchiatura analogica che sia un tape recorder che sia un nib 1081 1073 quindi un pre oppure un emulatore di banco di eq che sia un ssl bisogna conoscere molto bene il sweet spot in cui questa apparecchiatura questo processore rende di più perché chiaramente se andiamo sopra il limite il nostro suono ci sembrerà over processato se andiamo troppo sotto chiaramente non avremo la colorazione che stiamo cercando e quindi qui è richiesto molto esercizio chiaramente all'orecchio poi che giocorolo fondamentale però anche capire più o meno a che livello ogni tipo di suono di programma va a generare un certo suono per esempio so che il suono nib è un attimo a farlo suonare un po' troppo pieno di mid range soprattutto sulle medio alte anche se poi il nib viene percepito da tutti come un pre o come un banco ciccione effettivamente poi utilizzandolo ci si rende conto che se siete un po' esperti c'è un boost sulle medio alte superato una certa soglia soprattutto quando si fanno gli strumenti acustici quindi diciamo che serve esperienza nel capire appunto quello che stiamo facendo quando passiamo il nostro suono dentro questi processori anche il nastro la formula che scegliamo proprio della composizione del nastro oppure la velocità io molto spesso lavoro con la tr 102 sul mix bassa 7,5 pollici per secondo invece 15 pollici per secondo perché so che con i miei convertitori con la roba che uso mi smussa dal suono me lo rende un po' più lo fai però in un modo che mi piace magari un altro tape recorder allo stesso settaggio non mi dà quel suono magari mi dà il suono un po' troppo lo fai e quindi processore il processore bisogna capire quali sono i suoi limiti fino a quando si può spingere quando non ha senso spingerlo troppo poco e così via insomma tante riflessioni che vi invito a fare quando vi ritrovate appunto a processare i vostri mix per ottenere un certo risultato poi ci sono anche tutti questi plug in che stanno uscendo veramente belli tipo il retro color il retro fai della waves l'origin della simetics che oltretutto è gratuito che ci permettono proprio di smembrare il nostro suono e di lo faizzarlo come meglio crediamo emulando vari tipi di distorsione di rumore perché spesso anche il rumore gioca un ruolo fondamentale in questo tipo di process in chiaramente quando tendiamo un po più allo fai piuttosto che a una colorazione più ai fai e quindi diciamo sono tutti i mezzi che poi ci permettono di raggiungere la musicalità che cerchiamo detto questo io direi che ho fatto tutte le riflessioni che volevo fare fatemi sapere nei commenti se ci sono plug in che emulano macchine analogiche che vi fanno impazzire come le utilizzate oppure se utilizzate macchine che magari vi hanno particolarmente colpito su cui avete trovato un sweet spot che non vi aspettavate a un certo livello oppure con un certo settaggio insomma confrontiamoci su questa cosa perché sono curioso di sapere come ognuno di voi ottiene la musicalità che cerca se è soddisfatto se non è soddisfatto insomma tutte queste cose come al solito detto questo io vi invito a mettere like al video e iscrivervi al canale se non l'avete già fatto direi che per oggi è tutto io vi invito a mettere like al video love 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 love